Si è tenuta questa mattina alle ore 11.30 presso la sede dei Carabinieri di Pescara la presentazione del nuovo calendario storico per l'anno 2012. E' questo il secondo dei calendari della memoria, un ciclo inaugurato lo scorso anno. Nel calendario vengono trattate le diverse tappe del bicentenario dell'arma dei Carabinieri che ci sarà nel 2014. Quest'anno il nostro calendario presentato per la 79esima volta verte sulla storia dell'Unità d'Italia. In particolare si occupa dei secondi 50 anni della storia dell'arma collegati strettamente a quelli dell'Unità d'Italia sia nella fase dell'unificazione che dei primi anni di vita del Regno d'Italia. Grazie